Le soluzioni per il futuro delle strutture del Verga Modica. Al centro di un confronto stamattina è volontà del commissario costruire un nuovo edificio per l'istituto. L'interlocuzione è stata avviata con il sindaco, Giazziabate. Il ministro delle infrastrutture, Torinelli, nominerà un commissario strato ordinario per la gestione delle strade siciliane dopo la richiesta con tanto di delibera firmata dal presidente della regione, Nello Musumeci. Il ministro ha definito le strade in stato di guerra. Una delegazione sindacale è stata ricevuta in prefettura per esaminare le diverse problematiche sollevate dai lavoratori con esito positivo in merito a due importanti problematiche di logistica. I sindacati della categoria mantengono lo stato di agitazione. Amici per la pelle, il nome del corto ideato è scritto da Riccardo Tona, presentato ieri sera all'auditorio Petro Floridi a Modica, un corto che vede la partecipazione anche di artisti locali. Ancora buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento con MTG e buonasera anche a chi ci segue su Facebook. In apertura lo avete sentito, vi parliamo del futuro dell'istituto Giovanni Verga di Modica che è stato al centro di un confronto questa mattina nella sede centrale dell'istituto e volontà del commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, alla costruzione di un nuovo edificio per l'istituto. L'interlocuzione è stata avviata con il sindaco di Modica, Ignazio Abate. Per tutti i dettagli sentiamo Marco Scavino. Importante ma soprattutto proficuo incontro quello di questa mattina all'istituto di istruzione superiore Giovanni Verga di Modica dove è arrivato il commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Piazza. Il commissario Piazza infatti ha avuto una interlocuzione con il dirigente scolastico del Verga, Alberto Moltisanti. Al centro del confronto con tra l'altro anche la presenza dei genitori le aule del Verga, aule che non si presentano a numero sufficiente per fronteggiare le esigenze degli alunni. Due le aule che il Verga sta utilizzando nelle strutture del Principi Grimaldi ma delle soluzioni devono essere trovate per il futuro di questo istituto che ricordiamo essere tra i cinque istituti più importanti della provincia di Ragusa. La soluzione, ho detto poco fa, sia al preside che ai genitori è quella della costruzione di un nuovo istituto. Siamo alla ricerca di un terreno che non sia molto distante da qui. Ce l'avete a pochi metri, c'è l'auditorium di Modica, basterebbe un tavolo di concertazione suppongo con l'amministrazione Abate magari per espropriarlo, buttare a terra l'auditorium o recuperare il recuperabile e creare una nuova sede per il Verga. Abbiamo fatto richiesta infatti all'amministrazione comunale di venirci incontro poterci eventualmente cedere questo terreno dove potremmo costruire il nuovo istituto. Soluzione di tamponamento provvisoria è stata individuata dal commissario Piazza nella ristrutturazione degli scantinati dell'Archimede dove arriverebbero sei classi così al Verga. Già la possibilità di contare su locali prontamente disponibili si spera entro la fine del mese di febbraio dà sicuramente parecchia tranquillità a me che devo dirigere la scuola ma soprattutto ai genitori che devono mandare in questa scuola i propri alunni. Quanto poi ai programmi a lunga scadenza devo dare atto che c'è una volontà chiara da parte della provincia di realizzare un istituto ex novo che sicuramente evidenzia una piena ed indiscutibile sensibilità. A prendere parte al confronto anche esponenti politici in prima linea Fratelli d'Italia con il consigliere comunale Tato Cavallino. Credo che ci siano le condizioni per essere speranzosi e soddisfatti. Al confronto ha preso parte anche una delegazione di gioventù nazionale. Abbiamo chiesto al commissario Dorto Piazza delle informazioni per quanto riguarda i riscaldamenti. Stanno proseguendo i lavori di ripristo in situazione di alcune caldae. Vogliamo dare voce un po' alle richieste degli studenti che si trovano in una situazione anche di squilibrio perché si trovano in delle aule sicuramente che non riescono a fronteggiare neanche il numero. Il ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli nominerà un commissario per la gestione delle strade dell'isola così come richiesto dal presidente della regione Nello Musumeci con una delibera firmata qualche giorno fa. La decisione è maturata dopo che il ministro Toninelli a novembre ha effettuato il sopralluogo in alcune strade soprattutto della Sicilia occidentale definendole in stato di guerra. Le strade sembrano in stato di guerra così aveva etichettato le condizioni delle arterie siciliane in particolar modo delle zone di Agrigento e Palermo dove era stato a novembre il ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli. In quell'occasione il presidente della regione siciliana Nello Musumeci aveva proposto per l'isola il modello Genova con la nomina di un commissario per la gestione delle strade e così sarà. Lo ha annunciato il ministro Grillino nei giorni scorsi su Twitter. La regione ha presentato richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per le condizioni disastrate della viabilità in Sicilia. Ora il governo lavora per nominare un commissario, sbloccare i cantieri e rimettere a posto le strade dell'isola. Lo stato delle strade non possono che richiedere un intervento deciso, una soluzione emergenziale. Spesso i soldi ci sono ma non vengono spesi. E questo è ancora più grave, anzi inaccettabile, ha commentato ancora il ministro. Stiamo parlando di una terra che deve poter esprimere al meglio le proprie enormi potenzialità. È un sistema infrastrutturale adeguato, deve giocare in ciò un ruolo determinante. Ci sono oltre 300 milioni di euro pronti da poter spendere, stanziati fra un po' dall'Europa, un po' dal governo nazionale, per le nostre strade siciliane. Ed è una vergogna che non si siano ancora utilizzati. Le province non hanno la capacità di riuscire a mettere nero su bianchi progetti. E allora noi abbiamo chiesto, attraverso il ministero, quindi attraverso Toninelli, di interagire con il presidente della regione Nello Musumeci per avviare la richiesta di stato d'emergenza. Perché il governo nazionale, vicino alla Sicilia, ancora più di quanto non lo sia stato fino ad oggi, sta dimostrando di volere aiutare la Sicilia. E come? Nominando un commissario straordinario che bruci le tappe, che bruci i tempi, che inderoga alle leggi nazionali, un po' come sta avvenendo a Genova, per la ricostruzione del ponte, possa avviare i cantieri il prima possibile. Appaltando appunto anche a ditte esterne la progettazione e dando in affidamento diretto i lavori. Questo per permettere e dare la possibilità a tutti di poter vedere entro anche un anno l'apertura finalmente dei cantieri su 200 interventi su altrettante strade provinciali che sarebbero diciamo oro per la Sicilia. Questo è soltanto il primo gradino per cominciare a riportare un po' di normalità nella viabilità siciliana che più che stato d'emergenza dovrebbe essere dichiarato lo stato post bellico. Anche in Ragusa questa mattina gli autotrasportatori sono scesi in piazza per dire no alle modifiche dei tempi di guida e riposo. Un sit-in si è svolto in piazza Vannantò a partire dalle 5 del mattino. Una mobilitazione nazionale voluta dalle segreterie della Filt CGL e Filt CISL dalla Will Trasporti nella città capoluogo 2 le iniziative. Ce ne parla Carmela Minardo. L'adesione non è stata massiccia ma questo era nelle previsioni. I lavoratori dell'autotrasporto avvertono il peso della precarietà e la difficoltà di far sentire la propria voce in una fase in cui il trattamento non solo economico ma anche quello funzionale agli orari e quindi alla sicurezza presenta tante difformità rispetto alle previsioni contrattuali. A Ragusa in piazza Vannantò è stato tenuto un presidio anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla valenza generale dell'avvertenza. L'adesione è stata quella che ci aspettavamo. Nel senso che i nostri obiettivi non sono le folle oceaniche anche perché ho un comparto abbastanza frastagliato, delocalizzato e quindi gli obiettivi che ci siamo posti sono stati rispettati. Penso che le tematiche che portavamo in campo sono importantissime e quindi riguarda la questione sul pacchetto di mobilità europeo. Attualmente il regolamento prevede che dopo due settimane di impegnativa la terza settimana ci sia il riposo lungo. La proposta di modifica è quella di spostare il riposo dalla terza settimana alla quarta settimana. Quindi questo noi non siamo d'accordo perché comporta un rischio di sicurezza sia per il lavoratore, per gli utenti della strada e per quanto riguarda gli autobus e i passeggeri. Siamo in condizioni disumane. Il problema sul settore dei trasporti lo sanno tutti, che noi lavoriamo sotto costo, non siamo pagati come per contratto, non siamo pagati straordinario, non viene pagato quasi niente e le condizioni di lavoro sono pessime. Si può definire che noi in questo momento siamo in uno stato di schiavismo. Parlo a nome di tutti gli autisti e arrivano sempre denunce a telefono amico dei camionisti che non vengono rispettate nessuna norma, nemmeno il codice stradale. Perché c'è una missione anche nel codice stradale usando schede, doppie schede calamite perché l'autista viene minacciato e ricattato ogni giorno. A partire dalle 9 sciopero anche dei lavoratori della cooperativa San Giorgio, azienda dell'indotto della Versalis che produce polietilene. Altro momento simbolico in questo caso per denunciare il cosiddetto dumping contrattuale. Le ditte che sono venute precedentemente hanno adottato il contratto logistico e trasporti che è il contratto che si addice alle nostre mansioni. Perché noi facciamo facchinaggio e pulizia industriale, non apparteniamo ai supermercati come l'ha ditta il ragusano Pere San Giorgio invece ci sta applicando il contratto dei molti servizi e noi a questo non ci stiamo. La fine mattinata una delegazione sindacale è stata ricevuta in prefettura per esaminare le diverse problematiche sollevate da lavoratori con esito positivo in merito a due importanti problematiche di logistica riguardanti una alla Versalis e l'altra alla Colacem. La prefettura si è impegnata a convocare a breve un tavolo di confronto con la Versalis al fine di superare l'attuale dumping contrattuale. Per quanto riguarda la Colacem invece la prefettura, sentiti vertici, ha dato ampia disponibilità per un protocollo sulla legalità che regola il comparto eliminando concorrenze sleali. Gli sindacati della categoria mantengono lo stato di agitazione affinché le questioni poste trovino una rapida ed efficace soluzione. Ci sono anche due avvocati catanesi, uno dei quali un ex dirigente della Serit in pensione tra le sei persone coinvolte in un'inchiesta della Guardia di Finanza di Catania che ha portato stamattina l'esecuzione di sei ordinanze di custodia cautelare per corruzione continuata, accesso abusivo ad un sistema informatico e rivelazione di segreti d'ufficio tra gli indagati anche tre dipendenti di riscossione Sicilia e S.P.A. delle sedi di Catania e Messina. La cronaca la sentiamo con Sara Donzuso. Ci sono anche due avvocati tra i sei soggetti indagati a vario titolo per concorso in non corruzione continuata, accesso abusivo ad un sistema informatico e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito delle indagini della Guardia di Finanza su professionisti e dipendenti infedeli di riscossione Sicilia. I sei sono destinati ad un non provvedimento cautelare emesso dal GIP e il Tribunale di Catania. Da quanto emerso durante le indagini pare che gli avvocati coinvolti avrebbero chiesto e ottenuto da alcuni funzionari compiacenti i ruoli dei loro clienti durante alcune fasi della rottamazione e le cartelle sattoriali. I funzionari per espletare il favore ottenevano varie regalie sia in termini di denaro, 50 euro per ogni accesso in debito al sistema, per verificare la situazione debitoria di ogni contribuente, soprattutto di quelli che avrebbero voluto usufruire della rottamazione, ma anche oggetti come televisori e la fornitura dell'impianto di climatizzazione per un nascente B&B e in un caso anche un posto di lavoro. Ci ha fatto scattare il reato di corruzione. Era un vero e proprio tariffario, possiamo dire, che variava dai 25 ai 70 euro per visura, ma non solo. Siccome il contesto illecito non era vincolato a quel determinato periodo, per imbonirsi in qualche modo i dipendenti infedeli, nei confronti di uno di essi in particolare, sono stati regalati dei climatizzatori e dei televisori per l'attività di bed and breakfast della figlia. A ideare questo sistema è stato l'avvocato Sergio Rizzo, ex dirigente in pensione di riscossione Sicilia, che aveva mantenuto i rapporti all'interno e all'ufficio. Questo gli consentiva di avere dei canali preferenziali per i clienti suoi e del figlio. Spesso il Rizzo riceveva a casa propri clienti pur non essendo uno studio legale. Ai domiciliari dunque anche il figlio, settimo Daniele Rizzo, di 44 anni, e Claudio Bizzini, 66 anni, ex dipendente in riscossione Sicilia, anche lui pensionato e collaboratore dello studio Rizzo. Sospesi al servizio invece tre funzionali di riscossione Sicilia. Attraverso questo accesso illegale ovviamente i clienti di questo studio potevano attivare la procedura della rottomazione delle proprie cartelle, quindi del proprio debito, a differenza di altri soggetti che invece non vedevano pervenire le loro risposte nei tempi utili e quindi rischiavano anche di non accedere a questo servizio. Quindi episodi di asservimento a interessi privati che determinano anche una inefficienza nella pubblica amministrazione. Arresto per detenzione ai fini dello spaccio di un 35enne pregiudicato, di un 41enne per furto di energia elettrica e denunciato a piede libero. Tre persone e questo il bilancio dell'operazione ha portato a termine lo scorso fine settimana dai carabinieri della compagnia di Vittoria. Tutti i dettagli se li sentiamo da Gioquinta. Nell'ultimo fine settimana, su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, sono stati eseguiti numerosi servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio e a furti di energia elettrica. L'esito dell'attività ha portato all'arresto di un 35enne, Ramsey Jebes, pregiudicato, arrestato in flagranza del reato di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vittoria, insieme a personale del nucleo carabinieri cinofili di Nicolosi. Il 35enne è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish, suddivisi in 13 stecche confezionate all'interno di un involucro in alluminio, trovati in oltre 65 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell'attività illecita. L'arrestato, dopo essere stato condotto in caserma, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Deferito è stato di libertà per il reato di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti un operaio di 25 anni. A seguito di una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 11 grammi di marijuana occultata all'interno di un barattolo di vetro e un bilancino di precisione. I militari della stazione di Scoglitti inoltre hanno denunciato è stato di libertà un italiano di 34 anni e un 28enne romeno, poiché sottoposti a perquisizione personale domiciliare, sono stati trovati in possesso di due grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale usato per il confezionamento della droga. Arrestata di furto aggravato di energia elettrica, invece una vittoriese di 41 anni, la donna, agente di commercio, aveva costruito un allaccio abusivo mediante un bypass di fili che collegava il contatore della propria abitazione alla pubblica illuminazione. L'arrestata si trova adesso agli arresti domiciliari, così come disposto dall'autorità giudiziaria di Ragusa. È stato appiccato l'incendio all'interno di un capannone degli stabilimenti dismessi dove era parcheggiata un'auto di proprietà della ditta Ancione e che appunto è in disuso dal 2013. L'incendio dichiara, matrice dolosa, le innagini continuano da parte della polizia. Il rogo ripropone l'allarme sull'ordine pubblico sollevato proprio ieri sera dal presidente dell'ASCOM di Ragusa, Danilo Tomasi, ma soprattutto una preoccupazione che insiste nella zona industriale. Tutti i dettagli nel servizio. Alcuni malviventi si sono introdotti ieri sera intorno alle 22.30 all'interno dei magazzini della ditta di smessa Ancione nella zona industriale terza fase di Ragusa. Il fuoco è stato appiccato a un'auto di disuso di proprietà degli Ancione e parcheggiata all'interno di un deposito. Successivamente il rogo si è sviluppato verso la tettoia. Un secondo incendio è stato appiccato anche negli uffici danneggiando tavole e sedie. L'allarme è partito da alcuni automobilisti in transito che hanno notato del fumo provenire dall'interno della struttura. I vigili del fuoco intervenuti hanno limitato i danni e la polizia sta continuando le indagini. Non ci sono dubbi sulla matrice dolosa del rogo, ma la polizia propende per l'ipotesi di una bravata, considerato che lo stabilimento è chiuso dal 2013 e quindi non ci sarebbero interessi a danneggiare nell'immobile e nei proprietari, secondo gli inquirenti. Tuttavia la questura continua a indagare per consegnare la giustizia agli autori dell'atto incendiario. La ditta Ancione era leader nella produzione di prodotti bituminosi da 80 anni, un punto di riferimento nell'industria siciliana. Erano gli anni 30, infatti, quando la ditta individuale Antonino Ancione propose sul mercato i cartonfeltri bitumati e materiali impermeabilizzanti. Da lì in poi sarebbe nata la grande industria che per 80 anni ha pavimentato le strade e piazze in provincia di Ragusa e in ogni parte della Sicilia con l'asfalto e le mattonelle in pece. L'incegno che ha distrutto parte dello stabilimento ripropone l'allarme ordine pubblico lanciato ieri sera dal presidente dell'ASCOM di Ragusa, Danilo Tomasi, anche a seguito del recente furto che ha interessato il Barsavini vicino alla zona industriale. Amici, per la pelle questo è il nome del cortometraggio ideato scritto da Riccardo Tona, presentato ieri sera all'auditorium Pietro Fiodidia di Modica, un corto che vede la partecipazione anche di numerosi attori della compagnia teatrale Hobby Actors e di altre realtà artistiche locali. Due giovani che sono in cerca di lavoro in Sicilia, che tentano la fortuna, comprano un biglietto gratto e vinci, un biglietto che poi risulta essere vincente. Da questo momento in poi è un susseguirsi di ironie risate. Il cortometraggio Amici per la pelle, ideato e scritto da Riccardo Tona, è presentato ieri sera all'auditorium Floridia di Modica, città in cui sono state girate le scene. I due amici, dunque, per accaparrarsi il bottino del biglietto vincente, si trovano a complottare l'uno contro l'altro. Si basa sulla disoccupazione, il tema principale è la disoccupazione, è quello che può succedere quando la vita ti stravolge, ti arriva a una cosa che uno non si aspetta e come possono cambiare i rapporti anche di amicizie. La cosa più bella di questo cortometraggio sicuramente è la squadra che si è creata, anche se già era un po' composta nel precedente cortometraggio legittima difesa, ora si è un po' più ampliata. Il corto vede anche la collaborazione della redazione di Video Mediterraneo. Il direttore Catiuscia Carpentieri infatti si è prestata alla registrazione di una finta edizione di MTG, in cui veniva annunciato il servizio relativo alla vincita del biglietto con un Vox Populi per capire se in città si conoscesse il nome del vincitore o dei vincitori. Amici per la pelle vede anche in scena giovani attori modicani appartenenti alla compagnia teatrale Hobby Actors e altre realtà artistiche locali. A seguito di questa vincita però ci saranno delle vicissitudini, penso che non posso svelare il resto che lo porteranno a un finale a sorpresa. Per noi della Hobby Actors è un nuovo percorso dopo tanti anni di teatro, si è creato un bel gruppo, vediamo di proseguire anche su questa strada oltre al teatro. e adesso un servizio del nostro ufficio commerciale. Vose eleganti accolgono all'ingresso dietro due grandi tende bianche, sono solo i primi elementi che fanno intuire che oltre le tende e le spose si apre un mondo fantastico, il meraviglioso mondo di Sposami. Il salone della sposa organizzato da Expo è giunto alla quindicesima edizione. Sabato il taglio del nastro e il via a 10 giorni fino al 20 gennaio ricchi di glamour, idee, sogni e realtà che portano le coppie ad arrivare al giorno del sì, più preparate e soprattutto con nuove originali idee che caratterizzano il loro matrimonio. Perché Sposami un grande wedding planner dopo aver visitato la fiera si esce soddisfatti con nessun dubbio da fugare. Se Sposami c'è è grazie all'Expo che sa regalare queste emozioni. Enormi emozioni, emozioni da ogni punto di vista, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista dei risultati, dal punto di vista della bellezza. Abbiamo cercato di dare il massimo anche quest'anno per chi come noi per 15 anni appunto ha avuto tanti successi e è difficilissimo potersi ripetere ogni anno sempre meglio. È quello che noi cerchiamo con il nostro essere ossessivi in ogni singolo particolare. Soddisfatta ed emozionata anche la fondatrice di Expo Barbara Mirabella che evidenzia come questo evento sia un'occasione unica a livello regionale e non solo. Un'opportunità capace di regalare un sogno anche attraverso i tanti concorsi che ci sono. Insomma, come dice la Mirabella, fare fiera non è mettere solo insieme degli stand, ma anche avere e dare una visione di marketing territoriale riconoscibile, capace di generare un indotto positivo, prima, durante e dopo il salone. Un'edizione sempre più curata, particolare. Abbiamo voluto dare anche una nuova veste al layout della fiera. Ci siamo ispirati agli atelier francesi degli anni 50, anche con un'ispirazione un po' de co, quindi rifacendoci anche un po' i vari periodi in cui la moda ha dettato legge e quindi non solo è fondamentale lasciarsi incantare e consigliare da questo salone tutto italiano, ma anche molto siciliano. Al taglio del nastro anche il sindaco della città metropolitana di Catania, Salvo Poiese, che ha evidenziato l'importante ricaduta economica che eventi di questo genere hanno. Catania, la sua provincia e la nostra regione, può trarre un indubbio giuamento per quello che ruota attorno a qualsiasi evento feristico, per il settore sul quale punta Sposami, all'idea di un contesto territoriale, quale quello siciliano, dove vi è un crescente interesse per celebrare i matrimoni da parte di coppie provenienti da tutto il mondo. A nome della città metropolitana del Comune di Catania, voglio esternare agli organizzatori un convinto apprezzamento per quello che regala alla nostra città e al territorio nel suo complesso. È tutto con questo servizio. Grazie per averci seguiti fin qui. A tutti voi ancora, buon proseguimento di serata. Grazie. 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 Grazie.